Allora, buongiorno, siamo con la mamma di una bimba che va a scuola in Cerventino, giusto? Sì, a Brato Vecchio. Ecco, che cosa è successo? Si racconti un po' questa vicenda. Allora, è successo che purtroppo una maestra è stata positiva e dopo che lei ha fatto il tampone, giovedì scorso hanno comunicato che è positiva e da venerdì comincia la quarantena e tutti i bambini sono 14 all'unni, più la maestra di sostegno di mia figlia devono andare in quarantena. Poi hanno lunedì chiamato per il tampone alle 11 di mattina e hanno detto che mandano anche il foglio della quarantena, quando comincia la quarantena, quando finisce la quarantena. A nessuno è arrivato questa email, per cui non sappiamo né quando comincia la quarantena, non quando finisce la quarantena. Lunedì alle 11 siamo andati tutti a fare il tampone fra una bambina che non ha la macchina e loro hanno fatto il tampone a casa. Fino a ieri non è arrivato il risultato e abbiamo provato ieri a capire cosa è successo. Dopo che abbiamo fatto un po' di casino, stamattina ufficialmente hanno comunicato che sono persi questi 13 tamponi, proprio di nostra classe. Gli altri sembra che, perché non siamo stati solo noi in fila a Bibiena, gli altri sono arrivati e sono anche rifertati, e sembra che mancano solo questi di nostra classe e nessuno lo capisce perché. Questo è successo. E oggi pomeriggio qualcuno rifà il tampone, qualcuno no, perché domani in teoria deve finire la quarantena, però qualcuno rifà, anche io lo faccio a mia figlia per sentirmi più sicuro. Però qualcuno si rifiuta, dice domani finisci la quarantena, non lo faccio un secondo tampone a mia figliola. Sua figlia, lei ha detto che c'è un insegnante di sostegno, poi noi conoscevamo la sua vicenda, era un soggetto fragile. Sì. Ecco, quindi lei si auspicherebbe che comunque i genitori facessero questo tampone, ma non c'è nessuno che li può obbligare, questo sta dicendo? No, no. E se succede già due giorni prima, che dicevano già ieri la verità, si potevano anche costringere dicendo che non è finita la quarantena, ma in quel caso che domani finisce non possono fare niente. Possono decidere i genitori di fare o no. Eh, non posso fare niente. Mi devo fidare che non succede niente. Poi non capisco come possano sparire 13 tamponi e non capisco se sarà sparito 50, ma proprio questi qui non lo so. Non so cosa pensare.